Sto pronto? Sei? Vai! Sto pronto? Sto pronto? Sto pronto? Sto pronto? Su ora Bene Su ancora E' la giù Vai fluido Vai fluido Vai 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 Ali GoPro GoPro Vai 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 Buona Buona Vai Fino a fondo così Ora Scala e su vai 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 E' ancora Gas E' ancora E' ancora E' ancora E' ancora E' ancora Per Vai Vai Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Dai che è finita. Di scala tutto. Si è. zero spawn da foia so 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 finita vai vai ancora 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 pista sbagliato è lì la fine al cancello so 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 so